Oggi ci troviamo qui con l'assessore per i lavori pubblici Elisa Lodi che ci racconterà gli importanti interventi nella zona di Barcola. Sì, dobbiamo qui prendere in mano la zona di Barcola come ogni anno. Quest'anno cominceremo ovviamente i lavori di sistemazione dei topolini, dei bagni, dell'accesso al mare per i disabili, l'estimazione poi delle docce, quindi lavori che facciamo ogni anno in vista della stagione estiva e che sono assolutamente necessari proprio perché dopo duri inverni necessitano ovviamente di venti, di manutentivi. Quest'anno abbiamo un'emergenza ulteriore dovuta proprio ai fatti di maltempo di fine, scorso autunno, di fine ottobre dell'altro anno che hanno interessato proprio questo lungomare, quindi ci saranno dei lavori aggiuntivi sul lungomare e quindi un'emergenza che dobbiamo risolvere ovviamente per restituire i topolini ai nostri cittadini, ai triestini. Inoltre nel cuore della Pineta verrà costruita una zona dedicata agli amanti dello sport. Una novità che avremo quest'estate, in primavera estate, sarà la sistemazione di un'area fitness dedicata a chi fa esercizi fisici, quindi preferisce durante le mattine o la sera correre sul lungomare, avrà la possibilità quindi di effettuare degli esercizi creando quindi un'area fitness proprio dedicata agli sportivi.